Se il tuo partner, la tua ragazza, il tuo ragazzo ti dicono no tu non ti tatui altrimenti ti mollo fatti un favore fallo tu per primo a parte questo a volte magari il tuo partner, la tua partner ti dicono questo perché sono abituati a vedere brutti tatuaggi in giro e ce ne sono tanti, lo sappiamo, ce ne sono veramente tanti e quindi non ha ben chiaro cos'è possibile fare sul corpo umano a volte basta mostrargli il disegno del tuo tatuaggio, di quello che ti farai e cambiano idea, era un po' come il video delle persone anziane spesso e volentieri non sanno cos'è possibile realizzare sul corpo umano quando vedono che è possibile realizzare cose bellissime cambiano idea se non cambiano idea e insistono magari questa persona sta cercando di fare un gioco di potere con te sei sicuro di voler stare con una persona del genere? puoi sempre fare un test digli che questo tatuaggio è fatto per lei o per lui e vedi se la reazione cambia se la reazione cambia può essere che stiano facendo veramente un gioco di potere ma oltre a questo, parlando di partner se pensi di tatuarti il nome o le iniziali della tua ragazza del tuo ragazzo, moglie o chi che sia ti suggerisco di non farlo qualunque persona tatuata ti consiglierebbe di non farlo perché ovviamente ti auguro tutta la felicità di questo mondo con quella persona ma se domani vi lasciaste e magari cominciaste pure ad odiarvi quanto fastidioso sarebbe avere il nome di una persona che non sopporti più sul tuo corpo oltretutto per secoli gli schiavi sono stati marchiati con le iniziali o col nome del proprio padrone tatuarsi il nome di qualcuno sul proprio corpo o non importa chi è come affermare che il tuo corpo è proprietà di quella persona lo trovo brutto lo trovo veramente brutto ovviamente sei libero di fare quello che vuoi se domani vuoi tagliarti un braccio sono cazzi tuoi voglio dire a me non importa sto cercando di darti delle alternative delle soluzioni, dei suggerimenti perché non fare un'immagine io penso a me stesso se dovessi pensare a mio padre col mio nome tatuato non mi piacerebbe per niente assolutamente gli direi ma che cazzo hai fatto scegli un'immagine pensa quante volte su facebook invece di scrivere un commento a un post o al commento di qualcuno hai deciso di scegliere una gif animata perché? perché le immagini comunicano molto meglio di centinaia di parole e la stessa cosa un tatuaggio un'immagine comunica molto di più di due caratteri o un nome o qualcosa del genere poi start a te